Colora la tua estate con OXO! A maggio ti aspetta una promozione fantastica! Se acquisti un paio di occhiali da vista, con soli 5 euro in più, avrai diritto ad un paio di lenti da sole graduate. Non aspettare! Corri in un centro ottico OXO e trova la soluzione migliore per la tua estate.